amiche di cucito ciao ciao allora benvenute in questo nuovo tutorial alle nuove a quelle di sempre oggi andremo a fare un nuovo porta spilli da polso perché con la nostra collanina chi non l'ha vista la vada a vedere io ho aggiunto un'altra tasca perché qui c'è il ditale qui c'è la posizione del lago le forbici sono sotto e qui ragazze ci ha posizionato un piccolo metro ok perché io adesso con gil me ne sto giù in giardino a fare l'uncinetto quando ho un'oretta di tempo mi metto lì così lei gioca io me la controllo e a volte mi serve e quindi ho tutto a portata di mano sulla mia poltroncina e niente faccio l'uncinetto e però insomma volevo fare un porta spilli nuovo anche perché questi non si lavano insomma era arrivato l'altro l'ho fatto lavorare tanto ma non lo butto perché lo metterò qui come ricordo eccolo qui allora io niente è semplice però dopo me lo vedete come l'hai fatto come non l'hai fatto io sdengate vi faccio il tutorial quindi non vi muovete che parte subito eccoci qua amiche vi elenco subito il materiale per realizzare questo progettino un elastico questo è alto due centimetri due pezzetti di tessuto per fare il corpo del nostro porta spilli il centrale sempre in tessuto poi un cartoncino di diametro 7 centimetri io ho utilizzato il cartone quello che vi faccio vedere che mi arrivano i pacchi diciamo di amazon e ho ritagliato proprio guardate il quindi non deve essere proprio nel leggerissimo né pesantissimo perché comunque quando andiamo a filare gli spilli non è che ci infilziamo l'importante che prendono il cuscinetto quindi anche così chi non ha questi pacchetti può utilizzare una scatola delle scarpe un pezzettino va bene poi un pezzettino di pannolenci che ci vada bene comodo di due centimetri per lato cioè per tutta la circonferenza due centimetri più grande poi un ritaglio sempre di pannolenci qualsiasi colore perché tanto poi non si vedrà un vecchio bottone io sto utilizzando questo perché tanto l'ho messo da parte ma non lo posso utilizzare credo in nessun altro modo e dell'ovatta sintetica quindi bando alle ciance e partiamo subito prendiamo i due tessuti dritto su dritto ci mettiamo sopra un cerchio di diametro di 10 centimetri che poi troverete in descrizione il cartamodello e tutte le descrizioni dei materiali e delle misure quindi vado a prendere la circonferenza quindi la segnate con una penna una matita insomma quello che vi rimane più comodo al centro andiamo a fare il taglio una piccola incisione così dopo di che andiamo a bloccare con i fili adesso andiamo sotto macchina e facciamo la cucitura sul segno per tutta la circonferenza sotto macchina fatta la nostra cucitura adesso andiamo a tagliare l'eccesso di tessuto lasciando un margine di un centimetro tutto tutto intorno eccoci qua poi faremo i nostri taglietti una volta effettuati i taglietti tutti intorno riandiamo al centro dove abbiamo fatto la nostra il nostro la nostra tacchetta il nostro taglio e andiamo ad aprire di più così poi svoltiamo e andiamo ad imbottire eccolo qui ragazze l'ho riempito guardate tantissimo deve proprio sparire qui le grinze che sono intorno quindi ben imbottito dopo di che prendete ago e filo e andiamo a chiudere questa apertura con qualche punto giusto per unire i lembi che sono stati tagliati allora adesso entriamo con lago sempre lo stesso ago verso il centro così vedete ecco così schiacciate con con le dita in modo che aiutate anche il filo e passate più volte schiacciando il centro allora una volta che abbiamo bloccato vedete ecco così tagliate il filo e proseguiamo con il cinturino quindi andiamo a prendere l'elastico anzi la cosa principale dovete prendere un metro e misurare il vostro polso allora vediamo un po io ho 16 cm 16 vado ad aggiungere 4 cm quindi dovrò tagliare un elastico aspettate che ripulisco un attimo qui il taglio lungo 20 cm ecco qua dopo di che aspettate che tolgo il materiale che non serve allora vado ad unire così e vado sotto macchina e vado ad effettuare una cucitura anzi la facciamo subito insieme così ecco qua andiamo sotto macchina mettendo a paro così ago abbassato vedete qui sta a paro piedino ago abbassato ecco qua abbiamo fatto la nostra cucitura ok adesso vado a prendere il pannolenci il cerchietto che vi avevo detto di farlo di 7 cm vado a dare una stondata a questo pezzo di pannolenci non dovete stare al millimetro è giusto per togliere questi angoli così ecco qua adesso lo piegate dobbiamo andare a cercare il centro quindi piegate prima così e poi così questo è il nostro centro adesso qui ci andiamo a bloccare quindi aprite l'elastico così vedete lo poggiate qui sul centro fissiamo con gli spilli ragazzi andiamo a cucire un quadratino ok così blocchiamo l'elastico al nostro sotto alla base sotto sotto macchina sotto sotto eccolo qui abbiamo cucito ok il quadratino in modo tale che qui rimane bello liscio e ben fissato adesso andiamo a prendere ago e filo aspettate che forse ecco vedete meglio così anche perché mi do un'orientativa dove devo stare se no allora mi blocco il filo all'estremità del nostro cerchio vado a fare il punto filza abbiamo fatto il punto filza adesso andiamo a prendere il nostro cartoncino qui sul quadratino ci mettiamo della colla a caldo ok poi posizionate il cartoncino così tenete un po' premuto andiamo a tirare il filo ecco qua molto bene adesso lo blocchiamo il filo riprendiamo il nostro cuscinetto dalla parte dove c'è l'apertura ci dobbiamo incollare questo ok quindi posizioniamolo al centro e iniziamo ad incollare lo metteremo qui sul bordo venite premuto venite premuto così poi lo vado a posizionare anche al centro la colla qui abbondante e poi piano piano facciamo tutto il bordo non mettetelo proprio all'inizio all'inizio è all'estremità è un po più al centro che quando andiamo a schiacciare poi la colla può fuori uscire ragazze dopo aver fatto questo lavoretto adesso andiamo a preparare la decorazione da mettere qui riprendiamo il bottone il pezzettino di tessuto e il pezzettino di pannolenci ecco allora mettete il bottone sul pezzettino di pannolenci e fatelo più grande basta mezzo centimetro più grande e non vi faccio vedere ecco questo è il pannolenci e questo è il bottone vedete proprio un pezzettino poi prendete il tessuto così dovete calcolare che il tessuto perché andremo a fare lo stesso discorso che abbiamo fatto per la base sotto quindi ecco vedete che questa distanza va bene quindi la ripetete anche tutta intorno io adesso vado a tagliare anche qui non dovete andare proprio al millimetro è allora facciamo il punto filza qui al tessuto allora fatto il punto filza posizionate al centro il pannolenci prendete un pochettino di ovatta la pallottolate questa è troppa ci schiaffate sopra lo bouton tiriamo ecco qua adesso non ci resta che bloccare il tessuto eccolo qua il centrale è pronto chi non ha il bottone potete farlo anche col cartoncino è tagliate un cartoncino della dimensione che vi aggrada anzi mo vi dico questo non so se l'ho detto quant'era allora adesso è tre sarà stato un due centimetri e mezzo di diametro il mio bottone ma qui è a gusto vostro è allora io adesso vado a mettere qua dietro la nostra colla a caldo la nostra colla a caldo vado a centrare e spingo come ecco così lo tenete un pochino fermo ecco ragazzi è bloccato quindi adesso non ci resta che indossarlo e iniziare a cucire ok bene ragazzi eccolo qui fa panda con la nostra collana quindi abbiamo realizzato un bellissimo coordinato e si parte per una nuova stagione io vi se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento un saluto condividete iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e al prossimo tutorial ciao amiche a bilobbo ciao 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 ciao